Dopo il suo addio a UND, Ciro è stato beccato in compagnia di Martina per un confronto chiarificatore. Martina è andata a riprendere Ciro dopo che nel coso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il corteggiatore napoletano aveva scelto di abbandonare la trasmissione e andare via dal parterre dei pretendenti. A lanciare l'anticipazione è stato Lorenzo Pugnaloni grazie a delle segnalazioni arrivate sui social. Alcuni fan di Torre Annunziata, infatti, hanno beccato Ciro e Martina insieme, in esterna, questa mattina. Il percorso di Martina nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi continua ad appassionare il pubblico e, nel corso dell'ultima registrazione, c'è stato un colpo di scena importante che ha visto protagonista Ciro. Il ragazzo ha assistito a un nuovo confronto chiarificatore tra Martina e Gianmarco, al termine del quale il corteggiatore ha preso alla sprovvista la ragazza e le ha dato un nuovo bacio appassionato. L'atronista non si è tirata indietro e, tale scena, ha scatenato la reazione contrariata di Ciro, che in studio non l'ha presa affatto bene. Il ragazzo ha deciso così di andare via dal parterre dei pretendenti, annunciando il suo addio alla trasmissione di Canale 5, dopo questo bacio del tutto inaspettato tra la ragazza e Gianmarco. Ma cosa è successo dopo l'addio di Ciro? Stando alle prime anticipazioni riportate da Pugnaloni, tra i due c'è stato già un riavvicinamento. Martina e Gianmarco, per paura di poter perdere definitivamente il corteggiatore, ha scelto di presentarsi a Torre Annunziata, il paese in provincia di Napoli dove vive Ciro. In questo modo gli ha fatto una sorpresa e i due sono stati beccati insieme da alcuni fan della trasmissione di Maria De Filippi, che li hanno visti palare su una panchina, ripresi dalle telecamere di Uomini e Donne. Con le precedenti puntate trasmesse su Canale 5, Martina aveva più volte messo in discussione l'atteggiamento di Ciro, sostenendo che fosse fin troppo plateale e che stesse cercando attenzioni per emergere. Col passare del tempo, però, il corteggiatore è riuscito a farle cambiare idea, convincendola così a fidarsi di lui. Il primo bacio per Martina in questo percorso è stato proprio con Ciro. La situazione fece così infuriare Gianmarco, che in quella occasione scelse di abbandonare la trasmissione. Salvo poi ritornare in studio. A quanto pare, quindi Ciro sarebbe tornato sui suoi passi, accettando almeno di avere questo confronto chiarificatore con l'atronista in carica, che ha scelto di portare avanti il suo percorso con lui e Gianmarco. Martina aveva dato il primo bacio a Ciro. Nelle puntate precedenti di questa stagione, Martina si era lasciata andare particolarmente con Ciro, tanto che tra i due era arrivato il primo bacio del suo percorso. Un bacio che aveva scatenato accese polemiche in studio, soprattutto da parte di Gianmarco, che non l'aveva presa affatto bene e si era scagliato duramente contro l'atronista. Tanto da lasciare il programma e decidere di andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi. Martina, però, non accettando l'uscita di scena di Gianmarco, aveva deciso di rincorrerlo e seguirlo, convincendolo così a rientrare in trasmissione per portare avanti il percorso.